Ciao, io sono Pitta e adesso vi dico 5 cose su di me Ho 22 anni e ho un figlio Non ho mai detto umano Sono alta 1,80m e da che me ne vergognavo quando ero più piccolina Ora lo trovo uno dei miei più grandi punti di forza Amo gli snack e mangiarli Ovunque I peringo Li avevate visti quelli nuovi? Sono strafighi, hanno un designer nuovissimo ma soprattutto Hanno più crema Ve l'ho detto che amo i fiori? Però ecco, cioè, diciamo che forse non me ne so proprio prendere cura Vabbè, comunque E infine ho un'ossessione per le moche Ne ho anche una tatuata E siamo arrivati a 5, quindi fine